Musica E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo unico video, sono Santos e oggi siamo su un nuovo tutorial Sotto vostra richiesta oggi andremo a vedere come abbellire o comunque come costruire una caverna Non so se esistono altri video del genere ma io cercherò di farne uno che sia completo, che sia preciso ma soprattutto funzionale Quindi iniziamo subito Inizio col dirvi che non esiste un vero e proprio tutorial blocco per blocco perché ogni caverna è diversa, ogni situazione è diversa, ogni obiettivo è diverso e quindi bisogna adeguarsi Quindi io vi spiegherò in generale come si fa ad abbellire una caverna ecco Ovviamente sarà a voi andare ad adeguarla per le vostre costruzioni, per le vostre motivazioni perché magari dobbiamo fare un bunker sotterraneo oppure una stanza di bicantesimi o una stanza di ripozioni ecco Ovviamente il tipo di caverna che ci servirà sarà diverso Quindi vi spiegherò un po' in generale come vanno abbellite le caverne Inizio col dirvi che esistono due tipi di casi Il primo caso è che noi abbiamo già una caverna, se abbiamo già una caverna non c'è nessun problema, basterà abbellirla, aggiungerci dettagli Il secondo caso è che noi non abbiamo una caverna e quindi dobbiamo costruirla Come per esempio in questo caso qui voglio andare a creare un'entrata per una futura casa per esempio E però come vedete qua dietro non c'è nessuna caverna, io voglio abbellirla a mo' di caverna però non c'è Quindi dovremo andare a costruirla, bene per questo caso sarà un po' più complicato ovviamente Ma alla fine basterà conoscere tanto Minecraft, basterà giocarci e capire quindi come funzionano le caverne e come sono strutturate Quindi una volta che si capisce come sono strutturate le caverne non ci sarà problema a riprodurle Quindi cerchiamo un po' di crearne una Iniziamo con costruire un bello spazio e dobbiamo definire due cose, la lunghezza, la larghezza e l'altezza Allora facciamo conto che più o meno la lunghezza dovrebbe essere questa qui ecco Andiamo ad allargarla un po' per questo lato e andiamo ad allargarla un po' da quest'altro lato Non c'è bisogno che debbano essere per forza simmetriche perché appunto essendo una caverna è anche abbastanza irregolare In questo tutorial andremo a costruire due tipi di caverne, delle caverne ampie e spaziose come quella che sto costruendo adesso E delle caverne piccole e strette che magari servono come condotto per portare magari a un altro posto Quindi iniziamo da questo tipo di caverna Allora andiamo innanzitutto ad alzare un po' il soffitto e dire che così va bene Ovviamente non c'è bisogno di copiarmi completamente, seguire un modulo Dobbiamo andare un po' come ci sembra più giusto Bisogna andare anche di ispirazione, anche seguendo i propri gusti ovviamente Quello che consiglio di fare in questo caso è creare un soffitto innanzitutto E da questo soffitto andare diciamo verso il basso facendo una specie di curva, un semicerchio Ovviamente non deve essere irregolare, deve essere anzi molto irregolare Quindi andiamo ad aggiungere dei dettagli tipo ecco qui va bene, direi che così va benissimo E continuare a scavare Ovviamente il suono in creativa che faccio prima ma tranquillamente si può fare anche un survival questo Ok, vuol dire che a questo punto possiamo scendere con quest'altra parete E fare una cosa del genere che andiamo un po' a rompere dei blocchi Andiamo magari a pezzarne uno qua, ok facciamo così Magari qui e qui, ok leviamo questi Comunque appunto come oggetto deve essere una cosa molto a casaccio Da anche spammare i blocchi a caso, alla fine il risultato sarà sempre lo stesso Direi che come è entrata ci siamo, si si Ecco magari facciamo una roba del genere, così facciamo Pezziamo un blocco qui, magari un altro blocco qua Dai pezziamo anche un altro blocco qui Magari facciamo una cosa del genere, si ok perfetto siamo a posto Una volta ricavato lo spazio dobbiamo andare a eliminare tutti i blocchi che non sono stone Quindi in questo caso abbiamo la granite e l'andesite Oppure ci può essere anche la diorite oppure dei minerali ecco E tutti questi blocchi li andiamo a sostituire con della stone Almeno questo è il metodo che uso io Fidatevi che verrà davvero molto bene Perfetto una volta sostituito tutto con la stone Dobbiamo andare a decorarla appunto Qui ho lasciato un po' di terra che andiamo subito a sostituire Anzi facciamo una cosa del genere, si mi piace di più Dobbiamo andare a decorare tutta la caverna Per decorare la caverna i materiali che uso io sono questi che stanno in questa cesta Quindi tutte le varianti di cobblestone, di stone bricks Quindi quelle lì con la mossy stone, con dei disegni sopra Questi qui che sembrano tipo distrutti E' bello anche usare della terra magari La coarse dirt, il puzzle Da mettere nel pavimento, non nel soffitto perché questi blocchi nel soffitto non mi piacciono per niente Proprio il pavimento direi che ci sta tantissimo Magari con un po' di erba sopra Andare a mettere qua e là qualche blocco di andesite Di polish ed andesite Cobblestone wall, iron bars Minerali, gravel E possiamo usare anche magari tutte le varianti di grigio ecco Tutti i blocchi che si avvicinano alla stone Quindi anche la concrete powder Questa qui grigia Anzi grigia chiaro E il grigio già oscuro in realtà è un po' troppo scuro quindi non la uso Però anche questo blocco va bene Comunque potete anche scegliere qualche altro blocco voi Anche delle trapdoor E invece per illuminare ho delle redstone lamp Con magari delle leve o delle torci per accenderle Oppure della glowstone O magari se dovete fare qualcosa tipo a tema Halloween Delle zucche queste qui che fanno luce Le jack o lantern Insomma dipende da cosa dovete fare voi Adesso andiamo a prendere tutti questi blocchi Vi farò vedere un po' come piazzarli Tanto qui c'è un creeper Ok già è importante che i creeper non devono spawnare Quindi ci deve essere tanta luce Adesso perché ho la night vision Però dobbiamo ovviamente anche illuminarla la caverna Allora iniziamo subito con questi blocchi La gravel L'andesite La polische dandesite La cobblestone E gli stone bricks E già che ci siamo direi anche i tappeti grigi Perché danno anche un rilievo diciamo E dobbiamo andare a posizionarli molto a casaccia ragazzi Questo veramente non vi posso aiutare Non vi posso dire niente Perché vanno piazzati un po' ovunque Ovviamente non devono dare fastidio Magari non mettiamoli uno vicino all'altro Quindi magari non facciamo così Che stanno tutti vicini Magari facciamole uno staccato dall'altro Tipo qui Qua Insomma dobbiamo anche un po' abbondare Per ognuno di questi Quindi anche qua nel pavimento E si deve capire anche con una cosa a casaccio Perché se le mettiamo con un ordine O comunque tipo Che non so Uno qui E uno qua Questi qui già a me Mi stonano sinceramente Quindi ne metto qua uno solo isolato Direi che con l'andesite siamo a posto Come vedete ne ho aggiunta tanta Magari mettiamo un pezzo qui E uno qua E andiamo a passare con la gravel Quindi andiamo a mettere la gravel qua nel pavimento Purtroppo non si può mettere qui che vola Perché ovviamente cadrebbe Quindi è un po' limitato come blocco Quindi appunto È meglio usarlo soltanto per il pavimento Perfetto Una volta messo qui nel pavimento Andiamo a mettere la polish down the site Anche questa qui non vi posso dire niente Perché va messa un po' a casaccio diciamo Dove ci sembra più giusto Questo blocco però io vi consiglio di mettere E metterne meno rispetto agli altri blocchi Perché è un blocco che ha contorni molto marchiati Quindi si distingue molto dagli altri blocchi Che però io ovviamente consiglio di usare Ecco magari non vicino all'andesite Però comunque usatelo Ma di meno rispetto agli altri blocchi Come vedete già ci sono meno blocchi Di polish down the site Però si vedono di più Ecco magari mettiamone uno qui Sì E uno qua Perfetto Andiamo a passare alla cobblestone ragazzi Quindi anche qui mettiamola a casaccio Sempre la solita storia Una cosa che vi consiglio è di non mettere cose troppo vicine Cioè comunque ci deve essere uno spazio tra un blocco e l'altro Nel senso che non dobbiamo mettere stone bricks Cobblestone Andesite Tutti Tutti vicini ecco Comunque dobbiamo ricordarci che ci deve essere la stone come base Ecco già qui ho sbagliato Perché avevo messo la polish down the site Sopra un altro polish down the site Quindi magari leviamo questa e la spostiamo da quest'altra parte Un blocco qua E uno qua Ora gli stone bricks ragazzi È sempre la solita storia Li mettiamo un po' a casaccio Ecco magari qui manca un po' di colore Quindi gli ci mettiamo la polish down the site Cioè più che un po' di colore Un po' di qualcosa di forte ecco Ok usiamo anche questi altri tipi di stone bricks E anche i tappeti Quindi i tappeti ovviamente Vanno messi solo nel pavimento Così come vedete da dare un po' più di tridimensionalità ecco Vediamo che così va bene La concrete powder io in genere non la uso mai Però se volete voi la potete usare Però sinceramente a me non piace tanto Ok ragazzi come vedete adesso abbiamo una texture davvero molto più varia Non ho usato gli mossi stone bricks O la ceselle stone bricks Perché dipende ovviamente dalle situazioni Se dobbiamo fare una costruzione molto rovinata Ovviamente usiamo molto di più questo blocco qua E quest'altro E anche ovviamente la mossi stone è normale Però noi non vogliamo fare in questo caso adesso Una costruzione molto rovinata Tipo un castello in distruzione Ma vogliamo fare una caverna normale Quindi questi blocchi io non li ho voluto usare Appunto dipende dalla vostra situazione Potete usare tranquillamente tutte le varianti di grigio ecco Ora ragazzi io in genere aggiungo l'erba Quindi andiamo a prendere tutte le varianti di erba ecco Anzi di terra Anche con il bom meal ovviamente E andiamo a metterlo un po' a caso La terra secondo me però non sta bene da sola Ma va messa tipo in gruppi qui tre Per esempio qui ne mettiamo due Mettiamo due anche qui Ecco facciamo la striscia di quattro Perfetto Ecco anche questo qui deve essere un po' a caso Però a me sinceramente piace di più Quando c'è un gruppetto in questo modo Così Ovviamente anche il puzzle Tutta la course dirt Il puzzle come vedete ha un colore molto forte Quindi anche questo qui magari ne mettete di meno Invece la course dirt ha una texture davvero molto particolare E infatti mi piace quindi magari ne metto un po' sparsa Tipo qui all'entrata Ok ora andiamo a dare ancora più di dimensionità Mettendo l'erba Ovviamente non mettiamole troppo magari che può dar fastidio Un po' leviamo qui Leviamo questo Queste non mi piacciono tanto Leviamo anche questo Così magari leviamo anche il fiore Che stona un po' Perfetto Ora direi che una buona base su collaborare ci siamo Adesso andiamo ad aggiungere tantissimi altri dettagli Come per esempio possono essere i cobblestone wall e le cobblestone slab Che sono quelle che io uso di più E in genere i cobblestone slab le uso sempre nel soffitto per esempio E lo uso quando diciamo tra un blocco e l'altro In cui c'è un blocco più sopra e un blocco più sotto Ci metto il cobblestone slab Ma non ne metto mai più di uno in una stessa linea diciamo Io non faccio mai questa cosa qua ecco Magari così va bene Però io in genere lascio soltanto un pezzo così E non ne metto tantissimi troppo vicini Come questi qua come vedete sono troppo vicini Magari faccio tipo un distacco così va bene Ne metto uno qui No qua un po' mi stona Ovviamente qui se io lo metto qua copre il blocco che sta dietro Però va bene Magari mettiamolo tipo qui Ne mettiamo uno qua Uno qui Insomma anche questo qui non è che c'è un vero proprio Diciamo modulo da seguire Dovete andare un po' come vi sentite voi Magari tipo un paio qua Ora mettiamo il cobblestone wall Che si possono fare o che scendono Quindi tipo delle cose del genere Magari uno qua Ecco magari non facciamo troppa cobblestone Tutta in un punto Magari sostituiamo con l'andesite Che però c'è anche qua Quindi possiamo metterci Questo blocco qua ecco Magari facciamo una cosa del genere Così Magari un'altra che scende Qui un'altra Qui Perfetto ci siamo Mentre se lo volete fare Alcune che salgono magari Invece di fare così Che non mi piace tanto Potete fare delle costruzioni di stone Tipo delle cose del genere Ecco Leviamo questo E magari facciamo Tipo una cosa del genere Ci sta ok Facciamo anche degli slab Magari qua e qua Non so come si chiamano Se è tipo le stalattiti O le stalagmiti Non so quale delle due Magari facciamo una cosa del genere Anche qua Facciamo così Saliamo Direi di fare così In realtà qua non mi convince tanto Ok magari leviamo questo tappeto E facciamo una cosa del genere Facciamo No Anche questo mi convince Magari ci spostiamo E facciamo una cosa del genere Ma come vedete Anch'io Io sto dando tentativi Non mi sono preparato Assolutamente niente Sto venendo un po' Come mi piace Ecco Appunto bisogna improvvisare Magari degli slab qua Un altro slab qui Mettiamo qualche altro tappeto Che qui mancano un po' Ecco Ne mettiamo uno qui Perfetto Come vedete ragazzi Guardate quanto è cambiato Ora possiamo aggiungere anche Le foglie e le liane Le foglie Io in genere faccio che Dall'alto scendono Verso il basso Potete fare anche Dei cespuglietti del genere Ci stanno Così tipo E continuiamo ragazzi Tanto alla fine È questo È questo Quello che è Una cosa che scende così Qui purtroppo I colori delle foglie Non sono bellissime Perché siamo nella taiga Però magari se andiamo Nella pianura Come vedete Il colore delle foglie È già Qui è molto più vivace Ecco Però vabbè Non importa Ci sta comunque Magari una liana qua Possiamo mettere Una liana qui Una qua dietro E una qui Ecco le liane Ovviamente Bisogna contare il fatto Che si espanno Quindi se ne mettiamo Magari una qua sopra Questa qui Andrà a scendere giù Quindi ci deve piacere Magari qua Se scende Alla fine Mi può piacere Ci sta Quindi ce la metto Mettiamo magari una qui Una qua dietro Una qua sotto E dire ragazzi Che ci sta tantissimo Guardate quanto è venuta bene E quanto è stata decorata Ecco anche Anche delle iron bars Magari non ci starebbero male Queste qui In punti Completamente a caso Qui magari No Qua non mi piace tanto E ovviamente dipende dai gusti Ecco magari Ne metterei una Qua dietro No però non si attacca niente Non mi piace Mi piacciono più Mettere nell'angolo In questo modo Così Una qui Una qui Ecco magari qua Ce ne sono un po' troppe Quindi arriviamo a questa Ecco anche magari Con queste qui Possiamo fare tipo Delle cose che scendono Ecco qui In questo caso ho levato Questa qui Quindi non va bene Magari noi facciamo scendere Una qui Una qui Insomma dobbiamo Dare tantissimi dettagli Ecco qua no Magari qui Perfetto Guardate che spettacolo Ragazzi E' davvero bellissimo Ci sta tantissimo Ovviamente dobbiamo pensare Adesso all'illuminazione Quindi dobbiamo prendere Le nostre redstone lamp Ma vanno benissimo Anche le glueston E le trapdoor Io in genere Quando si tratta di illuminazione Faccio una cosa del genere Magari faccio La leva qui La redstone lamp qua E in questo caso Ci metto l'iron bar davanti Comunque a me non piace Vederla completamente Diciamo scoperta Ci metto sempre qualcosa davanti Che può essere l'iron bar Oppure la trapdoor In questo modo Ma in questo caso Ci sta meglio l'iron bar Ecco adesso mi levo Magari la night vision Ecco come vedete E' molto buio E noi dobbiamo fare in modo Che non possa sponare nessuno E' davvero una caverna Decorata benissimo E magari che ne so Se dobbiamo metterci Tipo Un tavolo qui Andiamo a fare spazio Leviamo magari queste strutture qui E ci mettiamo un tavolo Oppure se lo vogliamo fare Che ne so Ci dobbiamo mettere Un chanting table Andiamo a liberare Magari qui in fondo Un po' di spazio Per metterci appunto Tutte le librerie Facciamo una cosa del genere Perfetto Facciamo così E in questo caso Abbiamo qua la nostra stanza Per incantare Ecco facciamo una cosa del genere Così direi che ci sta tantissimo Pensando invece all'entrata In realtà anche così Un'entrata ci starebbe Un'entrata del genere Andrebbe anche bene Ma magari vogliamo fare Qualcosa più costruita Quindi innanzitutto Andiamo a prendere la pala Con cui possiamo fare Questo tipo di blocco Facciamo magari Un percorso Che si congiunge Alla nostra casa Non so E magari andiamo a prendere Dei log di legno Vanno benissimo Quelli di quercia Ma anche quelli di spruce Tranquillamente Anche per le foglie Per esempio Le foglie possono usare Qualsiasi tipo Non è che ce n'è una più bella Una più brutta Ecco magari Quelli della giunga Come vedete Hanno più dettagli Pure quelle di spruce Sono un po' più scure Insomma dipende Da quello che vogliamo fare noi Magari con questi log Andiamo a fare Tipo Un'entrata del genere Facciamo così Leviamo un po' di blocchi E facciamo Una cosa del genere Ecco magari Si è effettivamente Un po' stretta Andiamo ad allargare Facciamo così Ecco già Come vedete È molto meglio Andiamo a levare Questo blocco Che non mi piace Anche qui Che magari Andiamo a mettere Dei bottoni Tipo qua Oppure delle trapdoor Vediamo un po' Si ci stanno No sinceramente Qua preferisco i bottoni Quindi li metto così E ragazzi Abbiamo fatto praticamente La nostra caverna Ed è venuta davvero Molto bene Ovviamente questo design È per una caverna Abbastanza spaziosa A forma circolare Però si può fare tranquillamente Con una caverna normale Quindi una caverna lunga E adesso vi farò vedere un esempio Se ne trovo una Ecco Ecco per esempio Abbiamo una caverna del genere E andiamo a decorarla Nello stesso modo Quindi adesso Non ve lo faccio vedere tutto Vi faccio vedere soltanto La caverna finita È perfetto ragazzi Guarda un po' Questa qui esattamente È la stessa caverna Che prima Però ho decorato Ovviamente ho decorato Sostanto questa parte Sostanto per fare un esempio E qui addirittura Ho usato questo blocco qua Quello che si fa con la pala Andando a premere con il destro Quando c'è l'erba Direi che in questo caso Ci sta davvero molto bene Ecco E poi ho usato anche dei bottoni Anche che i bottoni Stanno davvero molto molto bene Mentre quando si tratta Di fare tipo Delle salite Come in questo caso C'è un blocco Che va verso l'alto Va semplicemente andare A metterci dei cobblestone slab Per esempio Questa qui È un'altra caverna vicino Qui adesso In questo caso Essendo tutto molto Di blocchi molto vicini Magari possiamo fare Una cosa del genere Allora vediamo un po' Facciamo così Che poi magari Va qui ecco Poi va qui Va qui ecco Fare tutto un percorso A me non piace fare Diciamo tutto il rito Fare questa cosa qua Che sto facendo adesso Oltre che non funzionerebbe Perché ogni volta Bisogna saltare Però a me non mi piace Mettere tutta la cobblestone Dritta in questo modo Voglio farla a parte In questo modo Facciamo una cosa del genere E così si sale tranquillamente Basta fare un po' A zizzag Ecco Per l'importante Che funziona E ragazzi Direi che È venuta davvero Molto molto bene Ci sta tantissimo Magari come passaggio Come Qualsiasi cosa Va bene ragazzi Ovviamente Il tipo di caverna Dipende da che cosa Vogliamo fare In questo caso Abbiamo fatto la stanza Per l'enchanting table Ed è venuta davvero Molto bene Ma ovviamente In base alle esigenze Si possono fare delle caverne diverse L'importante È rispettare Diciamo Questo Questo tipo di blocchi Da mescolare Ecco Magari per esempio Qua all'entrata Possiamo spargere Della corso d'ort Un po' Qui Ok Direi che va bene Magari un altro qua Un altro qui Così anche qui Da mettere un po' Più di colore Ecco Un po' più di texture Il risultato comunque Come vedete È davvero molto bello Ma quindi ragazzi Spero che il video Si è piaciuto Spero di aver spiegato tutto E di aver spiegato anche bene Ovviamente come ho detto All'inizio Non esiste Un vero e proprio tutorial Blocco per blocco Perché appunto Si possono fare Qualsiasi tipo di design Vedete qui ho messo Dei bottoni Magari posso mettere Per esempio Dei minerali Ecco Mi avevo preparato Un pezzo di ferro Potete tranquillamente Andare a mettere Tipo Delle vene di minerali Magari fare Una cosa del genere Tipo Che ci sta Ecco Magari così Ecco Di qualsiasi tipo Anche diamanti Oro Qualsiasi cosa Quindi appunto Fate un po' come vi pare E quindi ragazzi Spero che il video Si è piaciuto Ma al saluto Vi lasciamo un mi piace Per gli altri episodi Di iscrivervi Commentate Condividete Accedete anche A campanella Delle notifiche di youtube Per i suoi ultimi video E va bene Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti